e benvenuti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi vi farò vedere il backstage quindi tutto quello che abbiamo fatto a registrare il video con i miei amici spirit in camera mia andate a vederlo cioè partiamo con questo backstage e beh a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo a casa con dei miei amici che non si possono far vedere la faccia però si sentono alexandru e ryan allora oggi faremo il cocco dentista sì il cocco dentista e ragazzi faremo la partita del cocco dentista andiamo a vedere allora ragazzi alexandru questo qua con il piedino e primo e quello col piedino e ryan vai ho messo ok lei mi ha messo tocca a te tommy ah già ah vai prenderlo oh no cos'è cos'è assentate 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 ma perché là c'è una torcia tra l'altro ma perché qua c'è una torcia aiuto ma dove è finito ma dove è finito ma dove è finito Ale asentate asentate dove è finito Ale asentate non sto scherzando qualcuno non sto scherzando qualcuno e beh a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo a casa e faremo un cocco dentista con i miei amici c'è alexandru c'è il piedino magico di alexandru e poi ryan il piedino magico di ryan e poi il piedino magico di Tommy allora oggi faremo cocco dentista prima prima alexandru secondo ryan ed il terzo io ma accanto tocca a te ryan 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 tocca a te a ah va bene ok allora facciamo un'edio ad vado io rimane l'ultimo video ah ah uh no ryan ryan no fermi fermi no ryan ma dove ho ma cosa sono no ma no ma ma io non ce l'avevo se l'ho trovata in tasca ma com'è possibile no no ma cos'è sto rumore no cos'è sto rumore dai no 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 chi è chi è no 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 ryan no ryan no ryan no 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 ryan veramente dove no che vai no 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 ryan ryan no no 3 2 ryan non andare ryan ryan gli occhiali di alexandru ma dove è finito altrimenti no ryan no ryan vado a controllare no no ryan non è sicuro no no raga no 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 ragazzi no no vado a controllare ryan 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 No, 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 come? No, Ryan No, no, raga Non so cosa No, raga, siamo arrivati Raga, Alex è ancora qua Che sta andando a bere e facciamo una partita Con Ryan Ok, raga, sono ritornato Ah Ma perché c'è morte, raga, nella lavagna? Ma l'avete scritto voi No, io non l'ho scritto Ryan l'hai scritto tu Oh, no, cos'è, 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 fermi No Raga, Alex sta andando a prendere il bicchiere Oh, comunque qua c'è scritto No, l'hai scritto tu adesso? No, non l'ho scritto Non c'è scritto morte Ryan l'hai scritto tu? No Come poti? No, no, dai Alex sta andando a prendere l'acqua No, noi facciamo una partita Ah Con No Ragazzi, Alex Alex è andato a bere E noi facciamo una partita Alex è andato a bere Raga, però Smettila Smettila Ricominciamo Ok Raga, Alex Raga, Alex Alex è andato a bere Raga, Alex è andato a bere E Cioè, adesso sta andando a bere Ma l'hai scritto morte Come? Raga, Alex sta andando a bere Intanto facciamo una partita Ma l'hai scritto morte Come è possibile? No Ma l'hai scritto tu? No, l'hai scritto morte No L'hai scritto io No, l'hai scritto io No, l'hai scritto io No, l'hai scritto io No, l'hai scritto io Raga, Alex sta andando a bere No, l'hai scritto io No, l'hai scritto io No, l'hai scritto io No, l'hai scritto è No, che schitto è No, no No, la torcia è buona No, no No Raga, stiamo per inciapare No, no Ma che No, no No Ma perché, Alex, cosa fai? No No, no, no No, perché ride No, no, no Ryan No, Ryan Raga, Alex sta andando a bere No, no No, no No, no c'è scritto morte no come è possibile l'ha scritto tu allora no l'ha scritto Ryan no non l'ho scritto io no 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 ma neanche io l'ho scritto ma chi è che ha scritto morte no 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 raga no raga chi è hai una torcinta Alex no Ale no 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 ma perché ma perché stiamo registrandomi nel malissimo no Ryan dai Ale Alex sta andando a bere e intanto facciamo il senso ma se ti aiuta è è scritto morte come no lo stai scherzando no l'ho scritto io l'ha scritto tu no l'ho scritto io no l'ha scritto Ryan allora no com'è possibile allora è vero cosa Alex cosa c'è non lo so no 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 ho una torcinta no una torcinta com'è una torcinta ma com'è possibile che una torcinta no Ale Ale no madonna mia svegliati Ryan no no intanto prendo la sua torcia schifosa ma Ryan Ryan no no raga sono solo no ma cosa sta succedendo no 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 svegliatevi Ryan si stanno muovendo almeno no raga qualcuno sta dicendo morte Ryan svegliatevi no raga chi è che sta dicendo Ryan 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 no io sono una spirita vuoi ridere io sono la spirita ma non riprendere le facce ma non riprendere le facce ma non riprendere le facce buona io sono la spirita e vado a cosa prende ampri il telefono lo tommi a come o se è morto e finita il finimento ma che camera sucesso ma che camera sucesso è e Grazie a tutti.